Presidente Fontana, un importante convegno, smart city, ambiente, ecosostenibilità, tutti i temi a noi cari? Tutti i temi che abbiamo previsto, io credo che sia importante ricominciare, continuare quello che abbiamo iniziato nell'incontro della Lombardia 2030, cioè progettare, lo diceva il professore dell'IMIT, il futuro lo dobbiamo costruire noi, quindi dobbiamo iniziare a progettarlo e poi realizzarlo, è molto importante, il mondo sta cambiando, ci sono le condizioni per creare un mondo migliore per creare delle città più inclusive, più sostenibili, più socialmente coese. Un convegno organizzato da FNM che si occupa di treni, l'ho detto prima, lo ribadisco, si occupa invece anche della interconnessione, intermodalità che dovrà nascere da qui nei prossimi anni tra grandi città e piccole città, nessuno deve rimanere indietro e il mezzo di trasporto pubblico deve essere utilizzato da tutti indistintamente a livello non soltanto di ferro ma anche di gomma e anche navigazione. La Regione Lombardia investirà anche in tecnologia, sfide certamente interessanti? Sicuramente, anche perché comunque l'obiettivo del futuro è una mobilità sostenibile che non può prescindere da due elementi fondamentali, la tecnologia e ovviamente la mobilità, quindi insieme si lavora per raggiungere questi obiettivi. Stiamo lavorando non solo per rendere la Regione Lombardia più colmessa dal punto di vista infrastrutturale evidentemente con nuove infrastrutture non solo ma non tenendo alla perfezione insomma quelle che ci sono ma anche investendo molto in tecnologia, quindi un'idea di infrastrutture decisamente più moderna che effettivamente tengano anche in considerazione quello che è lo sviluppo tecnologico delle nostre città, la possibilità di recuperare e anche di rilasciare effettivamente dati. Stamattina ne abbiamo sentite, devo dire, qualcuno, qualche applicazione anche molto nuova e molto moderna ma è quello che stiamo facendo, l'abbiamo fatto ovviamente con i grandi investimenti per esempio del piano Lombardia e ci abbiamo creduto molto e abbiamo come obiettivo quello della Lombardia del 2030, quindi non domani ma nemmeno tra troppo tempo. Grazie a tutti.